ciao amici benvenuti su questo nuovo super video oggi siamo all'aperto e stiamo per grigliare oggi facciamo il what's in my bag scusatemi questo nuovo tag what's in my bag partiamo sul nostro bag c'è una griglia ma allora grigliamo certo che grigliamo poi c'è una bottiglia di vino poi abbiamo una paletta a che cosa servirà la paletta per la carne abbiamo dell'olio di dario cecchini abbiamo dovuto metterlo nella bottiglietta scusa dario ma quella grande la bottiglia non occupava troppo spazio enorme poi abbiamo il sale aromatizzato al profumo di pianti sempre del nostro amico dario cecchini poi abbiamo le porchette i coltelli e questo era nel tuo zainetto nel tuo spero ci sia la carne aspetta abbiamo anche dell'acqua oltre al vino è dell'acqua si mangia nella mia bag abbiamo i bicchieri di quanti siamo la cassa per la musica il pane e il nostro super tagliere attenzione arrosticini uno arrosticini due polpa per tagliata di manzo di un chilo voi non lo sapete ma sono circa le 4 del pomeriggio siamo usciti di casa un po tardi abbiamo detto dai c'è una bella camminata sull'adige dove troviamo grigliamo due ore dopo e 15 chilometri dopo siamo qui che bello sarà tornare a casa a piedi direi che devono grigliare grazie a tutti ragazzi è una figata natura griglietta carne musica io e il mio amore che festa mentre jim fa il lavoro sporco io assaggio i rossi ciri no non è vero siamo circondati da gente oggi ragazzi bellissima giornata tempo pazzesco carne fantastica stiamo un po combattendo con l'ultima carne che non si vuole croce però che dire sono con una persona che vorrei avere a mio fianco e fortunatamente ce l'ho ed è dietro alla telecamera e sono io ho cambiato idea non è vero che rende Come sta andando il trucco? Siamo nella lezione di make up in the middle of the Naki Of make up Make up into the wild Questo è mi preparo con voi Dopo una grigliata di un chilo di arrucicini e un chilo di tagliata E un bicchiere di vino Ragazzi oggi abbiamo visto un animale stranissimo E qui scatta lo spicy quiz Sapresti dirmi che cacchio di animale è questo? Qui dovrebbe esserci la foto dell'animale che abbiamo trovato stamattina Ah io non l'ho mai visto Sembrava un pipistrello ridotto Però un po' scarafaggio Con le lanterne lunghissime No io non ho capito cos'è Ragazzi Guardate benissimo questo animale E nei commenti qui sotto E non lì sopra Qui sotto Ditemi che animale è? Perché secondo me Fritto E saltato con gli spaghetti È un bijou Però ho dovuto farlo da voi se è buono Dimmi cosa sei Io so cos'è lei Io so cos'è lei Io so cos'è lei Ciao 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 Ferrari Piccolino? 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 Che mi piacciono le coccolini? Che mi piacciono le coccolini Vero? Sì Che ci piacciono È caldissimo È morbidissimo Un piccolo pattino Un piccolo pattino Mi piace tanto scorreggiare Sì Mi piace Mi piace tanto scorreggiare 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 Mi